Fede, speranza e carità, queste tre virtù suggerite dallo Spirito non erano solo consigliate da Padre Pio ai suoi discepoli, sono state le coordinate su cui il mistico Capucino ha orientato l'intera sua esistenza. Il primo e fondamentale riconoscimento della causa di beatificazione e canonizzazione è consistito proprio nella promulgazione di un decreto sulle virtù dell'apposita congregazione vaticana, in cui è riportata la seguente e solenne dichiarazione di Papa Giovanni Paolo II. Consta che il servo di Dio, Pio da Pietrecina, al secolo Francesco Forgione, sacerdote e professo dell'Ordine dei Frati Minori Capucini, ha esercitato in grado eroico le virtù teologali della fede, speranza e carità, sia verso Dio sia verso il prossimo, nonché le virtù cardinali della prudenza, giustizia, fortezza, temperanza e le virtù annesse. Il nostro venerato confratello, dunque, è stato proclamato santo non per i tanti straordinari doni mistici o carismi con cui il Signore aveva arricchito il suo ministero sacerdotale e che in breve tempo lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Egli è santo perché è stato coerente con i precetti evangelici e, in particolare, con il comandamento unico dell'amore con cui il Divino Maestro ha riassunto i dieci più esplicativi dell'Antico Testamento. Non a caso, infatti, scrivendo ai Corinzi, San Paolo ha evidenziato il primato della carità, non solo sui carismi che suscitano la diffusa ammirazione nei confronti dei santi mistici, ma anche su tutte le virtù. Lo abbiamo ascoltato poco fa. La carità è, potremmo dire, l'essenza stessa di Dio, considerando che l'Apostolo Giovanni, il discepolo amato da Gesù, nella prima lettera a lui attribuita, attesta Deus caritas est, cioè Dio e amore. Dunque, potremmo dire che Padre Pio è santo perché ha amato. Amato gli uomini facendosi carico delle loro necessità, delle loro miserie, delle loro sofferenze. Amato Dio e il prossimo, fino a vivere in pienezza la vocazione a contribuire alla redenzione dell'uomo, secondo la speciale missione che caratterizzò tutta la sua vita. Attuò questo programma con tre mezzi, mediante la direzione delle anime, mediante il sacramento della riconciliazione, mediante la celebrazione dell'Eucarestia. Fin dal momento della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 10 agosto 1910, egli si offrì al Signore vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti, scongiurandolo di riservare per lui i castighi che sono preparati sopra dei peccatori e sulle anime purganti, anche centuplicandoli, purché converta i peccatori ed ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Possiamo considerare le stimmate che gli furono donate subito dopo come la risposta, l'accettazione, il sigillo di Dio per quell'offerta vittimale. Il mistico Cappuccino, infatti, pur non rimanendo insensibile ai bisogni materiali dei suoi contemporanei, era fermamente convinto che la maggior carità è quella di strappare anime avvinte da Satana per guadagnarle a Cristo. Per questo arrivò a trascorrere in confessionale fino a sedici ore al giorno. Con il medesimo trasporto osava ergersi a difensore dei peccatori dinanzi all'Onnipotente. Lo ha confidato gli stesso in una lettera al suo direttore spirituale, il padre benedetto da San Marco in Lamis, con queste parole Per i fratelli poi, ahimè, quante volte, per non dire sempre, mi tocca dire a Dio giudice con Mosè o perdona a questo popolo o cancellami dal libro della vita. Queste riflessioni ci accompagnino a vivere la festa liturgica di San Pio da Piotelcina nel ventennale della sua canonizzazione, cercando di imitarne l'impegno a esercitare tutte le virtù cristiane e in modo particolare quella della carità che più delle altre può indurci a riscoprire il progetto di fratellanza iscritto nella vocazione della famiglia umana come si esprime il Papa Francesco nella Fratelli Tutti al numero 26. Così sia.